È il sistema di informazione giuridica online più autorevole, aggiornato e semplice. È de jure. E da oggi si arricchisce di due importanti novità per rendere ancora più precisa la tua ricerca. Grazie alla linea del tempo, puoi consultare con un solo clic i previgenti nei codici di procedura civile e penale. Ogni punto della linea contiene il testo dell'articolo in vigore alla data corrispondente e tramite la barra in basso puoi anche effettuare una ricerca inserendo una data precisa. E c'è di più. Con la nuova funzione Confronta testo puoi confrontare facilmente i testi di ogni articolo di codice o legge che ha dei previgenti. Ecco come. Scegli le due versioni, clicca su Confronta e vedrai in una pagina i testi affiancati. A destra avrai il testo più recente, mentre a sinistra la versione precedente. E grazie alla funzionalità Cerca nel testo, la ricerca è ancora più facile. Elabora le migliori strategie per le tue cause con Dejure. Ilabora le migliori strategie per le tue cause.